Tornano a salire i dati del contagio in tutta Italia. Non siamo ancora davanti a numeri preoccupanti. Parliamo di 161 pazienti in terapia intensiva registrati ieri in tutto il paese. Tuttavia, sempre nella giornata di ieri, l'indice di positività si è attestato sullo 0,97%, in netto aumento rispetto alle scorse settimane. Complici le riaperture e gli assembramenti indiscriminati, il virus sembra continuare a marciare, pur se frenato dai vaccini. Preoccupa anche la diffusione sempre più rapida della variante Delta e l'incertezza sulla protezione data dagli attuali vaccini contro di essa. Si riunirà oggi il tavolo tecnico del Ministero della Salute che è impegnato per la definizione dei parametri che servono a stabilire la posizione nelle regioni rispetto ai profili di rischio, alla luce della variante Delta. Tra le proposte la definizione di un numero minimo di tamponi settimanali. Per la zona bianca potrebbero essere richiesti almeno 150 ogni 100.000 abitanti. Una revisione potrebbe riguardare anche il cosiddetto RT ospedaliero, vale a dire il tasso di occupazione dei posti letto. Al momento la soglia minima di rischio è uguale o inferiore al 40% per i posti letto in area medica e al 30% per la terapia intensiva che passerebbe rispettivamente al 30% e al 20%. L'ampia distribuzione dei nuovi casi sul territorio nazionale indica una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus nel nostro paese. E' quanto riferisce il documento esteso dal monitoraggio settimanale IS Ministero della Salute pubblicato sul sito epicentro dell'IS è aggiornato al 7 luglio. La maggior parte dei casi segnalati in Italia nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico per la presenza dei sintomi, il 31,8%, o in seguito ad attività di ricerca dei contatti di casi accertati con contact tracing, il 29%.